C'è il delirio più totale perché appunto sta bruciando qualsiasi cosa E quindi le macchine della polizia si sono incastrate, i pompieri stanno spruzzando gente a caso I pompieri stanno rissando con dei civili, buttandoli giù dalle macchine Te lo giuro che non sto scherzando Perché? Ora stanno scappando, la polizia sta iniziando a sparare civili Macchine che tamponano i pompieri E ragazzi come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef e che se oggi chiama GTA 5 E siamo qui ovviamente prontissimi per riprovare la challenge che avevamo miseramente fallito Perché sì, non accettiamo di non avere il veicolo fighissimo Allora non abbiamo Io non accetto di buttare 3 milioni e mezzo proprio, non l'accetto mai nella vita Non abbiamo fallito miseramente, abbiamo fallito per colpa delle ambulanze che non sono efficienti su GTA E arrivano in ritardo Ascolta, un fallimento è sempre misero, non c'è un modo bello di fallire Secondo me sì, puoi fallire in modo glorioso Noi ci siamo andati vicini, l'abbiamo sfierato questa challenge Non sono d'accordo E quindi l'abbiamo perso con onore Gli fallimenti non li ha scetto proprio, quindi per me sono sempre miseri Tu vedila come vuoi per accontentarti Ti lascio con i tuoi pensieri allora Ok, grazie Comunque, dato che è la prima volta abbiamo fallito miseramente, come dice Ferinichi Grazie, grazie Abbiamo deciso di, diciamo un pochettino, rendere tutto più difficile Quindi sempre 20 minuti per prendere i veicoli Però diciamo che sono un po' di più Allora, li ho scritti qua nel telefono Abbiamo Ok, così questa volta non ci dimentichiamo nulla E non mi dici camion all'ultimo momento, vai Esatto, perché scritti in un foglio è più pericoloso Fuoristrada, moto, pullman, macchina della polizia, macchina arancione, macchina nera, macchina bianca, macchina verde, macchina sportiva, camion dei pompieri No, se voi mettiamo anche, capito, un carro armato di Forza Ancudo Va bene, va bene Tutta Forza Ancudo Cioè portarevi anche i militari nel parcheggio Aspetta che lo scrivo Allora, quindi Non lo vuoi di più Carro armato e poi mi hai detto anche un po' di militari No, tutti quanti Tutti Facciamo la festa Li mettiamo in fila nel parcheggio al posto delle macchine Anche loro mi sembra giusto portarle, no? Sì, 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 mi piace, mi piace, mi piace Dai, no, comunque sì Sono dieci totali e ce ne sono tre o quattro davvero complicati Quindi secondo me sarà davvero davvero complicato Giusto perché i soldi in palio sono sempre tanti E poi abbiamo fallito la prima volta, quindi ce lo meritiamo, capito? No, certo, certo, se non siamo stati in grado di farlo una volta, figurati ora Esatto Facciamo che ne punti uno che vedi pure, già Così vai, prendi, capito? Ok E dimene uno Tipo, eh, questa arancione, questa arancione L'arancione c'è? Sì, però Mi hai dato il tempo di avviare Allora, io l'ho bloccata, quindi nel momento in cui avvi la prendo e me la porto via Vai, vai, vai Avviato Non rinicchia un danno, guardate Posso andare? E tu mi hai detto quella che vedi, io l'ho vista, sono andata Prendila, prendila, prendila Allora, quindi l'arancione, vedi, era già un colore che un po' mi preoccupava E ci è passata davanti E se ti insegue, ok, no, sta scappando No, il fatto è che mi ha distrutto lo sportello perché l'ho schiacciato Ah, questo è un bianco, questo è bianco, questo è bianco, scusi È bianca? Sì, è bianca E ovviamente una stellina di polizia Per partire al meglio la mattina Dobbiamo avere anche queste le polizie Faccio un attimo due giretti di l'isolato e torno Perché la polizia ci deve far perdere tutto questo tempo ogni volta? Me lo spieghi? Perché la polizia di GTA è sempre fastidiosa Allora, però sai cosa facciamo? Dimmi Dato che dobbiamo prendere anche il fuoristrada Prendo questa cosa qua Che non so bene cosa sia Ma è sia bianco che un fuoristrada Ma non vale Eh sì che vale No, non vale Non vale E poi non è un fuoristrada Oh sì, non lo capisco Eh sì, è un fuoristrada Sì, 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 dallo è No, era un fuoristrada e una bianca Quindi nel caso poi devi prendere la macchina bianca Va bene, io ci ho provato Eh no, scusa, non possiamo semplificare Ci ho provato, ok Non possiamo semplificare la sfida Vabbè perché tanto, capito Vai, 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 c'è una moto C'è una moto Esci fuori e prendila velocissima No, c'è troppo Ah, ecco, ce n'è una qui, ce n'è una qui Eh, quella dicevo, esatto Prendila, prendila Battere Mi raccomando È mia È importantissima No, la polizia Ma perché me l'hai portata tu qua la polizia È colpa tua Lo so, lo so, lo so Allora, semina veloce E torna da me Vado, che noia Odio semina la polizia Se vuoi chiama l'Ester Se vuoi chiama l'Ester Sì, sto cercando di farlo nel mentre che scappo Perché è difficilissimo Ok, bravissima, bravissima Se tu porti anche la moto Siamo a 2 minuti e 40 Contra i veicoli Considera che abbiamo 2 minuti per veicolo Quindi per ora Stiamo andando bene Ovviamente, però ci sono cose molto più lente E quindi molto più complicate Che succede? No, davvero Io vi ammazzo Che succede? Non hai capito cosa è successo? Ho chiamato l'Ester Sì? Mi ha tolto la polizia Ok Mi si è rimessa da sola No Mi si è rimessa una macchina Mi ha tamponato E mi ha fatto pure volare dall'altra parte della strada No Cioè, ok A che serve l'Ester? Eccomi Eccoti Alleluia Non hai capito che mentre ti aspettavo C'è passato davanti un pullman No Lo so Quindi io in questo momento ho visto verso dove andava Prova a rincorrerlo Ok Tanto magari si ferma le fermate Anche se su GTA non esistono Secondo me non si ferma Al massimo i semafori E prova a recuperarlo Al massimo i semafori Pullman Dove sei pullman? Ci servi troppo troppissimo Che poi sono lentissimi Eccone uno Eccolo qua Finalmente Vieni qua No Non ho frenato Wow Ti dicevo sono lentissimi E non riesci neanche a inseguirli Perché davvero sono lentissimi Allora Un attimo Scusi 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 Si fermi però È maleducato Siamo a quattro minuti Non ne sono felicissimo Però comunque Motto Macchina arancione Pullman Non erano proprio le cose più semplici del mondo No infatti Infatti erano tra le più difficili Quindi diciamo che per fortuna Almeno stavolta Siamo riusciti a sbrigarle Abbastanza in fretta Non lo so Dritto Davanti alle auto Dritto Allora Arrivo E non ci sta altrimenti Bip bip Buongiorno Terribile vederti entrare col pullman Buongiorno Come stai? Non mi investire Tu riparti per favore Che stai guardando Perché parcheggio Sì Non mi serve Guardarmi Allora Cos'altro serve? Fai tipo macchina nera Dai Ok Che poi è quella che hai Vabbè però non vale La devi prendere fuori Cioè dai La stavo prendendo giusto Per non andarci a piedi Allora Sì allora Siamo a 4 di 10 E siamo circa 5 minuti Abbiamo pullman Macchina bianca Anche il fuoristrada Se trovi Questa però è sportiva Questa però è sportiva È nera No fermati No mi ha ignorato Questa è sportiva Ottimo Ottimo Stiamo andando benissimo Stiamo andando benissimo E ormai siamo esperti Dopo averlo fatto una volta Sappiamo bene come fare le cose Guarda se va bene Più o meno Eh sì Eh sì È pure decapotabile Guarda Sì sì È pure di un bel colore Meglio di così Esatto È bellissimo colore Mi raccomando Fissa tutte le nostre macchine Che altrimenti scompaiono Come l'altra volta Dimmi che cosa bella Che devo rimanere a fissare Bello come parcheggiato il pullman Vero Però bello Sì Proprio giustissimo Mi sono impegnato un sacco Almeno riesco a vederle tutte Sto pregando Che non mi spariscano davanti agli occhi Che non scompaiono Ho un problema Cosa c'è Non posso guardare il tuo schermo Volevo mettere la tanica Per i pompieri Ok non è la tanica Esatto Bravo Sei sempre così efficiente ogni volta Guarda Faccio esplodere un veicolo È per forza Sì È per forza Scusatemi Ok Stelle di polizia Ovviamente ricordiamo che non vale chiamarli al telefono Esatto Perché ovviamente dobbiamo riuscire a farli arrivare Se la polizia che i pompieri Esattamente È quello che devi riuscire a fare Adesso praticamente ho un uno contro Aia mi hanno investito Un uno contro uno con la polizia Che devo sfruttare per prendere la macchina della polizia Dato che ci serve come sempre E appena io torno sfruttando l'ester Tutelicamente devi prendere quella dei pompieri Che andrà per questi veicoli che bruciano Capito? È difficilissimo Dove sei? Nella strada di fronte? Sì Ok Allora Perché devo capire dove sei Scusi polizia Venga qua Venga qua Venga qua Venga qua Uno E due Ok Prendo la macchina Mi allontano di brutto Chiamo l'ester Semino la polizia E parcheggio la macchina della polizia Poi spero che tu uscendo Trovi davanti a te il furgone dei pompieri Lo spero Lo spero Eh Sinceramente Con la tanica era un po' più semplice diciamo Buongiorno Allora parcheggio davanti Capito? Nell'altra Nell'altro lato Perché sennò poi non riesco a tenere le docche Ok? Ok Va bene Vado 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 Ciao bella A dopo Quindi dove dovrebbero essere qua davanti? Sì alla tua destra Esatto di lì Qui Ci dovrebbero essere due macchine esplose Teoricamente lì adesso arrivano i pompieri Siamo a 6 di 10 E siamo a 8 minuti Quindi stiamo andando bene Però Ok Quella dei pompieri può essere diciamo Una pugnalata Un po' come La scorsa volta all'ambulanza Quindi dobbiamo stare No non arrivano Io te lo dico eh No? No 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 Non li vedo neanche in lontananza Ma neanche per sbaglio Allora c'è quella macchina verde Sali su una macchina e vai a cercare quella verde Dopodiché quando torni Mi sa che vado a comprare al volo una tannica Metto fuoco in un posto E aspetto i pompieri Sì vabbè la difficoltà La difficoltà Lo so Ma è verde quella cosa? Sì se la guardi è verde scuro Proprio è verde Cioè Ah sì A casa mia questo è verde Ok Allora torna a fissare tu le macchine E riparto Che ansia Per dare un attimino Un aggiornamento Ferreniki ci ha messo un po' Perché la verde era abbastanza rara E siamo a 10 e 40 E oltretutto volevo trovare Prima di tutto un fuoristrada E l'ho trovato di nuovo verde Capito? Vabbè Cioè non riesco a trovare fuoristradi Di colori Ma questo è per un fuoristrada no? Non credo Non lo vedo bene Sì dai Questo è un fuoristrada E se no che cos'è il fuoristrada? Cioè guarda Il fuoristrada è esattamente Quelli che abbiamo portato No Questo è una Ha un altro nome Aspetta Vabbè Vabbè È un'utilitaria Ecco Un'utilitaria È di quelle macchine familiari Capito? Grandi Per farci salta la famiglia Ok Vado a prendere la tanica E prova a fare i pompieri allora Dato che non ti piacciono i miei fuoristrada Il fuoristrada lo prendi tu Ok? Sì Va bene? Allora Veloce 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 Sono 700 metri Per fortuna ne abbiamo uno Abbastanza vicino Qua comunque c'è una stazione di pulizia Quindi rubare le macchine È sempre una tragedia Ecco perché ogni volta che esci da qui fuori Ti arriva subito la pulizia È una difficoltà aggiunta Abbiamo proprio la stazione di fronte Cioè non ce ne siamo accorti Fino adesso Non so se il gioco te lo fa posta Ma ogni volta che io esco fuori E tu stavi cercando una cosa Me ne trovo 5 davanti Ho trovato di 5? 3 macchine verdi Eh vabbè 3, 2, 1 Sparo con la pistola adesso E dovrei far partire un incendio improponibile Eh voglia Sì dovrebbero arrivare stavolta Col fuoco avevamo appurato Che comunque arrivano Sì teoricamente Speriamo bene Arrivano a fegnerlo Poi lo avevo messo Perché avevo messo anche qua Ah eccone 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 Ho messo fuoco praticamente Sia alla strada Che all'erba Ok ottimo Così diciamo che i pompieri Hanno più posti Incendio gigante Esatto anche se qua nell'erba È già scomparso Sì scompare subito Secondo me lo devi fare su una macchina Che dici? Guarda Sì si è già spento Ascolta metti fuoco a una macchina Pompieri Scusi Devo mettere fuoco alla macchina Allora Ecco qua La polizia sta arrivando Quindi ho poco tempo Giustamente Giustamente La polizia arriva sempre Non capita mai che quelli non arrivino Per una volta dico io Sto facendo un bel lavoretto Nel mentre Eh sì lo vedo La macchina sta bruciando di brutto E dovrebbero arrivare a sto punto Adesso sono pronto a chiamare l'ester Così teoricamente la polizia mi lascia in pace E arrivano i pompieri a spegnere la macchina Credo Ha preso fuoco anche una persona E anche un palazzo Io non so come sia possibile Ma perché? Come hai fatto a dare fuoco al palazzo? Non lo so ma ci sono riuscito Sta bruciando un palazzo Vabbè Se non vengono così i pompieri È tarocco il gioco Sì no davvero Lo disinstall Non faremo mai più Né una sfida Né un si può fare Perché mi arrabbio Mi conti quanti ne abbiamo Siamo a sette Ricorda bene Due, tre, quattro, cinque, sei e sette Sì Quindi mancano i pompieri Il fuoristrada e la macchina nera? Esatto esatto Ok adesso facciamo i pompieri Eccoli Eccoli Oh mio dio Eccoli Allora Una volta Aspetta Perché ovviamente c'è la polizia davanti Eh ti devi organizzare bene Mi raccomando Proprio bene 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 C'è il delirio più totale Perché appunto sta bruciando È bruciato poco al palazzo E quindi la macchina e la polizia Si sono incastrate I pompieri stanno spruzzando gente a caso I pompieri stanno rissando Con dei civili Buttandoli giù dalle macchine Te lo giuro che non sto scherzando Perché? Ora stanno scappando La polizia sta iniziando a sparare civili Macchine che tamponano i pompieri E io dovrei prendere la macchina dei pompieri Senza farmi notare Questa c'è da ogni volta che succede qualcosa Che dovrebbe essere normale Perché se c'è un incendio è normale Che arrivino i pompieri Impazziscono tutti Si Non si sa perché diventano tutti pazzi qui Adesso la macchina e la polizia è andata anche via Che è buono Però è rimasto un poliziotto qua a piedi fermo Lo vedi questo qua? Oh che noia Quindi io non posso rubare il pe... È fantastico Aspetto che cammini un po' E vediamo Ma ti becca uguale Ti becca uguale Che tragedia 3 Vai 2 1 Non darmi la stellina Ok Non ho la stellina Non ho la stellina Non farti vedere Non fare il giro di fronte alla stazione È arrivata anche l'ambulanza se la vuoi No grazie Stavolta Vedi che ogni volta... Comunque vedi arriva molto più tardi E quello è il problema E soprattutto quando non c'è la polizia secondo me Sì arriva molto tardi Perché altrimenti hanno paura di morire Mi sono appena schiantato Dici che hanno paura di morire Veicoline sono scomparsi O ce li abbiamo ancora tutti? Per fortuna no Li sto tenendo d'occhio proprio In modo militare Bravissima Arrivo Siamo a 16 e 15 Quindi abbiamo 3 minuti e mezzo Per gli ultimi due Un fuoristrada e una macchina nera Vado? Sì Sì Hai preso il palo Fai attenzione Guarda tutto come scendi Mi raccomando Ho fatto a cadere la luce Ok Vado 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 Vai 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 Quindi abbiamo Ricapitolando L'autobus La macchina bianca Il palo Il palo Ha sondato la macchina sportiva Allora c'è un fuoristrada parcheggiato qua Ne approfitto Ne approfitto ormai Quindi autobus Macchina bianca Macchina sportiva Moto Macchina arancione Macchina della polizia Macchina verde E camioncino dei pompieri Siamo a 8 di 10 Per 17 minuti E 10 Secondi Ferinichi sta arrivando col fuoristrada Che poi questo è un fuoristrada Perché io l'ho da un po' confuso Sì Oh sì è un fuoristrada Mi dice SUV Un SUV tecnicamente Un SUV è un fuoristrada Non è un fuoristrada Sì 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 Non so così esperta Però dovrebbe Allora Hai l'inquadratura su tutto? Aspetta Sto cercando di parcheggiarmi bene Eh ma non c'è bisogno Non sei brava Ho rigato tutto il camion Ti muovi che mancano 3 minuti Vattene Tanto è una nera Dovresti trovarla in fretta Ok guarda bene tutto Non farne scomparire Aspetta mi metto così Perché li voglio vedere Tutti i 10 Quando andiamo via Speriamo di farcela stavolta Eh beh dai Giuro 2 minuti Iniziano ad essere tanti Quindi è difficile Tenerli Lo so Però 2 minuti Per una macchina nera Dovrebbe essere facile Scusi lei è nera Perché col buio Non si capisce bene Scusi No dai si fermi Era nera Ed era anche bellina Faccio tutto il girettino Per sicurezza Perché mi vuole prendere A punire tipo C'è servito Fallire l'altra sfida Perché ci ha proprio forgiati Per questo momento Siamo stati più veloci Fin quando non parcheggio Non canto vittoria Quindi stai un attimo calma Ok Fammi parcheggiare E poi possiamo festeggiare Guarda C'è un posto libero pronto Nera e grigio Se proprio dobbiamo essere pignoli Guarda che belle che sono Tutte insieme Sì Fanno un effetto L'abbiamo fatta stavolta A non farle neanche sparire Che bello Faccio vedere il timer 18 minuti e 30 Quindi un minuto e 30 Di bonus per finire È stato impegnativo No è stato molto faticoso Poi le macchine della pulizia E dei pompieri Mi hanno sempre fatto sudare Guarda Fanno paura Perché ogni volta Ogni volta Non so se riesce a prenderlo almeno E per fortuna Questa volta abbiamo trovato subito Il pullman Perché anche il pullman È di quelle cose Che ti può far girare Anche 5 minuti buoni E invece sei stato fortunato A trovarlo subito Guarda che belle Goditi i momenti Esattamente Tutte insieme Se fosse giorno Sarebbe più bellino Per vederle tutte insieme Carine carine Se non avessi sfondato il pallo Ci sarebbe un po' di luce in più Esatto Però Dettagli Comunque ce l'abbiamo fatta Quindi 3 milioni e mezzo Sono vinti Da Steph E da Ferrenichi Però Nei prossimi giorni Uscirà appunto La sfida Uno contro uno Tra me e Ferrenichi Per chi se li becca E per chi si compra Quindi il veicolo speciale Abbiamo già in mente Che bello Come fare la sfida È una cosa totalmente Epica E malsana Io ve lo dico L'unico spoiler Che vi possiamo dare È che ha a che fare Con il carro armato Come sempre Ormai Ormai si sfrutta Perché quando l'abbiamo comprato Tutto ha a che fare Con il carro armato Però Ha a che fare anche Con i labirinti Adesso non avranno capito nulla Se qualcuno nei commenti Riesce a capire Che collegamento ci può essere Tra un labirinto E un carro armato Vince Il fatto che Lo facciamo vedere Un abbraccio Facciamo vedere il suo commento Nel video Ma io volevo dare un abbraccio Eh ma l'abbraccio Come facciamo Virtuale Eh no dobbiamo prendere l'aereo E andare a abbracciarlo Un po' Eh sì dai è una bella cosa No sì è bello Però è un po' faticoso Volevo essere gentile Comunque Ci fermiamo così per questo video Siamo riusciti a farcela Quindi Allora Vorrei dire il giorno Credo domenica Ok Uscirà la sfida Uno contro uno Per chi si becca I tre milioni e mezzo Quindi preparatevi Non uscirà all'online Ma esce una doppia challenge Questa settimana Perché è un evento speciale Vedremo chi lo vince E soprattutto L'amicizia tra me e Ferinichi Che ormai Che non c'è mai stata Quindi non so perché Continua a dire Che noi possiamo anche essere amici O qualcosa del genere Siamo migliori amici E migliori fidanzati E anche Migliori partner lavorativi Allora L'unica cosa In cui siamo migliori nemici Migliori nemici Tutto il resto non esiste Mi dispiace per te Che noriosa Bene ragazzi Se vi è piaciuto Senti un bel like E se è la prima volta Che avete visto il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Iro sell genuinely Ciao 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 Grazie.